Allora ragazzi, molto importante, prima del contest vi ricordo di passare da tutti i link, tutti i social, Facebook, Instagram, la mia pagina, perché è importantissimo, perché sarà fatta lì l'estrazione, quindi raga passate da tutti i link in descrizione, mi raccomando, si parte col contest, bella Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale, siamo qui oggi con un nuovo video, un nuovo video, un contest, non facevo un contest da i mille iscritti se non erro, ma siccome sono stato a Barcellona, come ben sapete, come se mi seguite sulla pagina, su Facebook Allora, ho deciso di fare un contest, con me, assieme a me l'ha fatto anche Palace, ma, allora, questi qui sono dei gommini, che adesso vi farò vedere, che l'ho messo anch'io già nel joystick Che ancora non ho provato a giocare, perché sono arrivato ieri sera, adesso questo video uscirà domani, cioè mercoledì, se lo vediamo anche il giorno è oggi, il 18, domani che il 19 uscirà questo video Mercoledì 19, e poi avrete tempo, una settimana, per, diciamo, vincere questi gommini qua, che non so se si trovano solo a Barcellona, o comunque anche su Amazon, però vabbè Io ho deciso di fare il contest come Palace, e quindi facciamo questo contest, allora, per partecipare a questo contest, cosa bisogna fare? Allora, innanzitutto vi dico, questi gommini sono utili per, comunque, maneggiare meglio il controller, lì, analogici E sono per Xbox, PS3, PS4, Xbox One, Wii e Wii U Vedi, ci sono scritte qua, ci sono scritte tutte le cose, tranquilli raga, che vanno bene per qualsiasi joystick Allora, per partecipare a questo contest, segnatevele bene, bisogna non essere iscritti al mio canale, cioè non per forza, ovviamente se siete in iscritti sono più contento Perché un mio iscritto, comunque, ogni tanto qualche regalino se lo merita Allora, dovete sicuramente lasciare like questo video, e io come faccio per sapere se avete lasciato like? Semplicissimo Allora, dovete taggarmi su Facebook, perché così io vedo che voi avete condiviso il video, perché se non condividete il video e mettete mi piace Ovviamente siete esclusi da questo mini contest, perché alla fine sono dei gommini, alla fine, non è che sia una casa, però vabbè È un regalino che abbiamo preso così a Barcellona, quindi siamo anche contenti ogni tanto di regalarvi qualcosa Allora, questi gommini qua, vi dico che abbiamo pagati 3 euro, adesso non so se su Amazon o su altri siti costano di meno Ma l'importante è anche il gesto, no? Quindi, dovete commentare qui sotto il video con scritto partecipo, condividere il video, taggarmi su Facebook E se non mi avete su Facebook, aggiungetemi o comunque poi taggatemi, vi lascerò il mio profilo qua tranquillamente Poi l'estrazione verrà fatta esattamente dopo una settimana, adesso non so, un giorno esatto Comunque tranquilli che l'estrazione verrà fatta sulla pagina di Facebook Quindi ovviamente io controllerò chi ha condiviso il post, chi ha messo mi piace e tutti i passaggi che bisogna fare Che sono semplici, mettere like, condividere e taggarmi su Facebook Detto questo, raga, io spero che questo mini contest vi piaccia, vi possa piacere Io di questi gommini in realtà ne ho altri due, potrei metterli benissimo in altri joystick O se vedo che ci sono altri riscontri positivi su questo video, su questi contest, su questo, diciamo, così, di like e coinvolgimento Potrei farne ancora uno Quindi ragazzi, spaccate il like, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto Passate da tutti i link che sono qui sotto in descrizione, tutti i social E niente, io vi ricordo di passare anche su Instagram Seguitemi su Instagram, seguite tutti i miei follow, tutti, dovete seguire tutti, automaticamente Niente raga, datatine è tutto, spacchete il like, iscrivetevi perché se no siete game over E se no non potete vincere questi gommini Spacchete il like, bella Se no, vi amazzo Allora non ti seguirei fino in capo al mondo All'ultimo secondo Volerei da te Da Milano fino a Hong Kong Passando per Londra Da Roma fino a Bangkok Cercando te